Musica Ospedale Asleto 5 scelta l'area di Cambiano Azienda Zero, 113 gli emendamenti presentati Licenziato in Commissione il bilancio di previsione finanziaria 2023-2025 Nuova edizione di Consiglio News ben trovati L'ospedale dell'Asleto 5 sorgerà a Cambiano Il Consiglio ha approvato a maggioranza la proposta di delibera sull'edilizia sanitaria Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta che individua Cambiano quale area su cui sorgerà l'ospedale unico dell'Asletorino 5 Il documento, che è tecnicamente una proposta di delibera al Consiglio sulla rete ospedaliera regionale ed edilizia sanitaria presentato in aula dall'assessore alla sanità sposta l'ubicazione del futuro ospedale dell'Asletorino 5 da Moncalieri a Cambiano dopo gli accertamenti del Politecnico di Torino che hanno evidenziato fragilità idrogeologiche e idrauliche del sito di Moncalieri e alle valutazioni svolte da Ires sui tre siti proposti dall'Assemblea dei Sindaci Moncalieri, Villa Stellone e Cambiano Nel corso del dibattito il PD ha annunciato il voto contrario rispetto alla scelta dell'ubicazione rimproverando alla giunta i ritardi legati alla localizzazione dell'ospedale Fratelli d'Italia ha espresso soddisfazione per l'ubicazione di Cambiano evidenziando la soluzione di una vicenda che durava da 30 anni Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il voto di presenza sottolineando la necessità di risolvere alcune criticità legate alla viabilità La Lega ha annunciato il voto favorevole e sottolineato l'importanza che la sanità rimanga pubblica come pubblico sarà l'ospedale che sorgerà a Cambiano Ha annunciato il voto convintamente favorevole anche da Forza Italia perché la decisione presa è frutto dell'ascolto delle necessità e delle priorità espresse dal territorio Dopo l'approvazione del documento l'Assemblea ha votato due ordini del giorno collegati approvato quello di Fratelli d'Italia che impegna la giunta a realizzare contestualmente al nuovo ospedale la circonvallazione al centro abitato di Villa Stellone respinto quello del PD per impegnare la giunta a presentare entro sei mesi un piano dettagliato di rimodulazione ed indirizzo per i tre ospedali di Moncaglieri, Chieri e Carmagnola Sono 113 gli emendamenti presentati dal Partito Democratico alla proposta di delibera della giunta regionale che prevede di assegnare ad azienda 0,5 nuove competenze il coordinamento dell'emergenza ospedaliera, della rete dei laboratori e dei servizi delle reti di patologia, di epidemiologia e il supporto tecnico organizzativo per coordinare i progetti di investimento in edilizia sanitaria Dopo il dibattito generale sono stati illustrati una settantina di emendamenti i rimanenti verranno presentati nelle prossime sedute La prima commissione ha licenziato il bilancio di previsione 2023-2025 che pareggia circa 19 miliardi L'assessore al bilancio ha preannunciato un emendamento in aula che stanzierà 500 mila euro per la ristrutturazione di caserme Durante la seduta è stato anche approvato un emendamento di giunta che prevede maggiori trasferimenti al Consiglio regionale per circa 7 milioni di euro nel triennio La discussione sul provvedimento approderà in aula la prossima settimana Dental School si lavora per ridurre le liste d'attesa L'assessore ha risposto un'interrogazione dei moderati Come intende intervenire la giunta regionale per potenziare le prestazioni di cure dentarie presso la Dental School di Torino e ridurre le liste d'attesa per gli interventi in narcosia a favore delle persone con grave disabilità intellettiva o con autismo Questa l'interrogazione ha risposto immediata che il capogruppo dei moderati ha rivolto all'assessore regionale alla sanità La Dental School ha specificato in aula all'assessore regionale alla sanità riserva al paziente portatore di disabilità un ambulatorio specifico dove operano tre odontoiatri La lista d'attesa per l'intervento in narcosi comprende più di 250 pazienti Per risolvere il problema da giugno 2022 si sta sperimentando presso la Dental School la sedazione cosciente e la narcosi con protossido d'azoto L'azienda insieme ai professionisti della Dental School individuerà altri spazi operatori Il Consiglio regionale ha votato numerose nomine tra cui la designazione di quattro membri del Comitato Consultivo del Centro Gianni Oberto che collabora al calendario celebrativo per la festa del Piemonte completando così la composizione dello stesso Si tratta di Walter Serra, Mauro Tosco, Gianfranco Visca, Guido Novaria Katia Fioretti invece è stata votata componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Venaria Reale L'elenco completo di tutte le altre nomine votate dall'Assemblea è consultabile sul sito cr.piemonte.it La squadra del Liceo Regina Margherita di Turino ha vinto il torneo di debate che si è tenuto in Consiglio regionale Il Liceo Regina Margherita è la scuola vincitrice del torneo di debate dibattito tra scuole che si è svolto in Consiglio regionale su proposta del Comitato Resistenza e Costituzione nell'ambito del 42esimo concorso di storia contemporanea I debaters si sono sfidati a colpi di argomentazioni sulla mozione Questa Assemblea sostiene che dagli avvenimenti del primo dopoguerra 1920-1921 e lungo tutta la storia del Novecento la violenza è stato uno strumento politico efficace Lo scontro ha visto coinvolte cinque squadre di cinque istituti del territorio Il debate disciplina del dibattito viene svolto secondo tempi e regole prefissati nel quale due squadre o due singoli si schierano a favore o contro un argomento o un'affermazione Prepararsi sicuramente su un argomento di questo genere è stato stimolante per noi che quest'anno siamo in quinta quindi avremo la maturità è stato sicuramente un ulteriore spunto di collegamento che sarà all'interno del colloquio finale Dovrebbe essere una pratica scolastica e non solo extrascolastica infatti secondo noi il dibattito ha un valore enorme soprattutto per la comunicazione ma anche per la conoscenza perché dopo questo studio infinito che abbiamo fatto possiamo dire di sapere moltissime cose La squadra vincitrice andrà in viaggio premio a Mauthausen e Vienna il prossimo 12 maggio La prevenzione del tumore al seno al centro dell'incontro che ha visto esperti in campo oncologico e medico riuniti al Polo del Novecento con il sostegno della consulta femminile regionale Insieme per la prevenzione del tumore al seno giornata di incontro, confronto e condivisione al Polo del Novecento di Torino organizzata dall'associazione Andos Onlus con il sostegno della consulta femminile regionale per fare il punto sulla campagna di screening 2022 e lanciare l'Ottobre Rosa 2023 per stimolare e incentivare l'adesione ai programmi mammografici di prevenzione serena Siamo donne molto fortunate perché possiamo godere di alte eccellenze, di alte competitività non dappertutto nel mondo è così Oggi si parla di guarigione in oncologia nel tumore della mammella Attenzione, chi arriva presto? Al termine dell'evento Andos, comitato di Torino ha donato un ecografo di ultima generazione alla senologia clinica delle Molinette diretta dal professor Paolo Fonio dotato di un software aggiuntivo che consente una più accurata valutazione delle lesioni mammarie consentendo di ridurre le biopsie con grande risparmio di risorse stress emozionale nelle donne, maggiore accuratezza e riduzione delle liste d'attesa L'ambiente a matita in mostra all'URP di via Arsenale Rimarrà esposta al pubblico fino al 19 maggio nelle vetrine dell'URP del Consiglio regionale del Piemonte via Arsenale 14G a Torino la mostra all'ambiente a matita ognuno di noi può contribuire a disegnare l'ambiente di cui abbiamo bisogno promossa dal Consiglio regionale e realizzata in collaborazione con il Sermig Il Sermig è nato dal pensare e il pensare ci ha portato al fare I 21 pannelli che compongono l'esposizione sono un invito a riflettere in maniera semplice ma efficace su ciò che possiamo fare nella vita quotidiana per tutelare l'ambiente attraverso i disegni di Giampiero Ferrari e i testi elaborati da Carlo e Manuele De Giacomi di Ecofficina La mostra è particolarmente rivolta ai giovani e alle scuole e diventerà itinerante Io credo che oggi i ragazzi siano bombardati da tante immagini distratti da tanta 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 cosa credo che se c'è un segno, un'immagine che attira che suscita simpatia e curiosità forse la guardano Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti